Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'ancora amatelica è ripresa a tempo scaduto dal Siena alla Vispesaro che benedice il recupero salvandosi a Olbia. I minuti finali danno e tolgono alle marchigiane di Serie C. L'ancora amatelica sfiora il colpo che l'avrebbe rilanciata dopo quasi due mesi un po' in ombra, con appena una vittoria in dieci partite, ma il pari vale comunque i play-off matematici. Al Franchi, i Dorici in divisa blu, si presentano orfani di Palesi, Moretti del Sole e Fagioli. Attacco sperimentale con Sereni, Rolfini e Deramo. Subito il Siena, Cardoselli però viene murato da Avella. Dopo la mezz'ora è bianchi a sciupare un buon pallone. Nella ripresa l'ancora amatelica entra in campo con un altro piglio e passa subito. Angolo di Sereni, testa di Masetti, risolve la mischia del carro al terzo centro stagionale. I Dorici tengono e anzi in chiusura si divorono in raddoppio con Sereni. Favalli intanto matura il secondo giallo e il Siena resta in dieci. Poi tocca a Noce in contropiede sprecare la palla del possibile 2-0. E così scatta la punizione toscana. Piazzato di Cardoselli sull'incrocio dei pali, ma l'ex Ascoli Ardemagni è pronto a timbrare l'1-1. Delusione per l'ancora amatelica e 129 tifosi al seguito. Se non altro però, dopo quattro sconfitte consecutive in trasferta, i biancorossi portano a casa un punto. Aggiusta il tiro fuori casa pure la Vispesaro, reduce da quattro scivoloni come l'ancora. A Olbia la squadra di Banchini in maglia nera è senza capitano Gavazzi, al suo posto dentro Ferrini. Gli ospiti partono timidi. Il vantaggio sardo matura al 32esimo. Travaglini per Ragazzu all'undicesimo centro stagionale 1-0. Dopo sei minuti l'arbitro valuta da rigore l'intervento di Coppola su Mancini. Dal dischetto però proprio Ragazzu si fa rispingere il tiro da Farroni, al secondo penalty stagionale neutralizzato. Nella ripresa Banchini richiama in panchina astrologo e inserisce Marcandella. Nel finale prima l'Olbia rischia di raddoppiare, ma ci pensa ancora una volta Farroni sul tiro di Ragazzu deviato. Al 92esimo Marcandella trova un tiro meraviglioso che regala l'1-1 alla Vis. Per il centrocampista che festeggia sotto il settore occupato dalla quarantina di tifosi marchigiani, gol numero 4 in campionato.